Nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Bari saranno rafforzati i controlli delle forze dell'ordine, specie nei momenti in cui 42 operatori hanno maggiore liquidità. La decisione arriva dal prefetto di Bari, Carmela Pagano, che nelle ultime ore ha incontrato Irma Melini e l'avvocato Francesco Paolo Sisto. La prima è firmataria di una mozione in Consiglio Comunale, presentata dopo una serie di rapine nel mercato, il secondo legale di sei operatori che hanno presentato una diffida al Comune, chiedendo 20.000 euro di danni ciascuno e soprattutto l'applicazione del regolamento, rimasto sulla carta, che prevede controlli molto più stretti all'ingresso. Il prefetto, proprio quanto di sua competenza, ha istituito immediatamente un tavolo tecnico di coordinamento delle forze per evitare che nelle reali più importanti ci siano episodi come quelli precedenti di rapina anormata. Aspettiamo che il sindaco e l'assessore Palone possano realmente applicare il regolamento che prevede, peraltro, quello su cui anche il prefetto è stato d'accordo, cioè l'identificazione di chi entra nel mercato, ma anche la videosorveglianza, cosa che oggi il Comune non garantisce.